Benvenuti a Vigiappone, vedete adesso è il periodo di San Valentino, quindi stanno tutti i cosetti per fare i regalini, per fare i cioccolatini, stanno preparando per quello, vedete tutte le cose per fare i cioccolatini, tutte le cose per fare i regalini per gli innamoratini, se ricordate Chiharu l'aveva spiegata questa cosa, vedete proprio il periodo, no no al contrario è Chiharu che lo deve fare, in Giappone sono le donne che fanno il regalo, benvenuto Klaus, vedete tutte le formine, questo uno se c'ha l'occhio lo capisce com'è, com'è la stagione, cose stagionali giapponese, qua invece stanno i vari tagashi, i vari tagashi, i vari cioccolatini pure qua, po' pazzetti, ricche e crocche, per una regge, vedete se io mai boh, la società collassa, lo parliamo più che altro, vedete, 10-108 yen, io faccio le live, almeno 3-4 volte a settimana, regolare proprio, ormai, guardate, guardate, 3 piani, incredibile, guardate che belli, fa un sacco di roba, guardate che roba, dipende, l'orario cambia un po', cambia parecchio, ma la donna quanta roba c'è, vedete qua è Tokyo Hands, sempre carino, vedete, Kimetsu no Yaiba, no, questo è Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen, va per la maggiore adesso, guardate che belli, ah perché questi sono cioccolatini pure questi, cioccolatini a forma di stereo, Gundam, oh oh oh, eh, fighi questi, i cioccolatini di Gundam, carini questi, ma consiglio Mastercard e maestro personalmente, sui server level non si paga la, non si paga la, la cosa, non si pagano le, le tariffe di, le spese, diciamo, se uno fa il server level, guarda questo, guarda che roba, ma sono fighissimi, cioccolatini di Gundam, vedete, tutta la roba del cioccolato, per San Valentino, c'è tutta la roba per fare i cioccolatini, ah questi sono belli, a forma di pianeti, questi sono fighi, vedete i coccodrilli, bello anche questo, i popotri, gli animali, i panda, quegli altri animali, ah questi dinosauri ciali mi regalò, non so se avete visto il video, ma il T-rex di cioccolato puro, credo che sia questa, di questa serie, con le uova, guarda che figo, sì gli stranieri hanno più difficoltà per le carte di credito, vedete, è molto fatto di plastica, molte cose sono fatte di plastica, sono troppa plastica, guarda che bellilli, che altro c'è, il video giusto c'ha, vedete Jurassic Chocolate, bellini, sai c'è qualcosa dentro, ah c'è il dito di, il dito di Sakuna, no però non è a forma di dito, è una fregatura questo, c'è pure gli adesivi, oddio, la mu, cioccolatini della mu, che bellini questi, e Doraemon, e i Pokemon ovviamente, non mancano mai, guardate, Miri Kalamun sta tornando eh, Urusei Azzurà, guarda questo è Sailor Moon, che sono eh, guardate che figata, bello, 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 continuiamo, continuiamo, ah lì in colonia di Catan, i giochi di, i giochi di, di società, belli in colonia di Catan, mi piace molto, Catan in 3D, 40 mila yen, costa tantissimo, 40 mila yen, Catan, è molto bello, benvenuto per Varlafus, o come si chiama, Varlafus, tutti i giochi, Rubik's Race, si ma infatti ma in Giappone è sempre così, sono troppe cose che vendono, veramente una quantità esagerata, e NanoBlock, anche qui, 40 mila yen, sono circa 350 euro, guardate che belli NanoBlock, molto fichi, guarda che figata, Conan, guarda questo è bellissimo, eh ma questo, ci sono tutti, ci sono tutti, poi uno per uno, quelli a sorpresa so, bellissimi, ma si so a sorpresa certo, so sempre, che rincoglionito che so, non sa quello che ti capita, ma quello che ti capita, ti capita, tranne, tranne il sesto angelo che è un po' una rosicata, è bellissimo, Sibi Marco Chan, My Hero Academia, le Miffi, cose così, i Pokémon, abbiamo già visti questi eh, no guardate che figata, questo è fichissimo, guardateli, eccoli, eccoli, oh belli questi, belli belli questi, vedete tutti i Pokémon, bellissimi, belli belli, vediamo se trovo fichi, un Takaki ragazzi, buonissima marca di dolci e di frutta, fa delle torte spettacolari, così come Kazunarikara, ci ho fatto un video, un po' vecchiotto ormai, ma fa queste tortine che sono bellissime ragazzi, e buonissime, i Sendai lui eh, guardate che bella, ah vedi, ragazza che è stato nel tempo, che sono tutte le magliette, giujutsu case, quelle rimaste in venduta, guardate, l'altro c'è, i Pokémon, un sacco di Pokémon, i Jujutsu Kaisen, queste forse sono nuove, collezioni, perché sta andando molto, questo sembrava che l'anghelion, ma non lo è, ah, ridateci la nostra Gioconda, perché siamo noi campioni del mondo, ridatecela, è nostra, è nostra, cantava un, un eroe, c'è Mr. Chris, c'è un J.J. Zona, ma c'è un Doraemon verde, ah, c'è un Doraemon verde, ah, sostenibile, sostenibile, questo è il Doraemon, Doraemon è ecosostenibile, vedi, per il Jujutsu Kaisen, terribile, sta ovunque, sta ovunque, ma meglio Jujutsu Kaisen di Tokyo Revengers, cento volte meglio di Jujutsu Kaisen di Tokyo Revengers, molto meglio, un sacco di roba c'è, un sacco di roba di Jujutsu Kaisen, Varebbe per uscire, bello sto negozio, sempre, sempre figo, sta facendogli dei spettri, mi fa piacere, sempre bello, ah, siamo tornati dopo tanti mesi, ah, che belli questi, c'è ancora l'angolo di Sonic, a me fa molto piacere questo, molto piacere, ah, questi sono, sono i cosi, sono gli fumetti quelli la, americani, mi sa, sì, io ce l'ho sta maglietta, poi l'ho comprata, troppo piccola, questa è nuova, era troppo piccola, ho comprato anche questa, troppo piccola, le taglie giapponesi purtroppo, belle questo anche, qua 3GK, ICK, ah, questo è per le ICKard, bellina, c'è ancora l'angolo di Sonic, Dragon Ball, bello, bello, questo è che sono, non lo so, bello, bello, poi story, questo saluto a Darione, benvenuto a Nightjale, Nightjake, regaliamo a Darione, bello, sacco di belle stupitaggini, sempre bello sto negozio, guardate che colori, i Yutti Ramen, Tomika forse qua, no, forse qua no, forse qua no, guardate, Giujutsukaisen, tanto per cambiare, oh oh oh, che cafonata, stampatissimo, che cafonata questa, quanto costa? 35 yen, non credo, credo sia la cosa, che cafonata questa, oddio quanto viene, questa bella cresima, si, quanto viene questa, dove sta, oh, datemi il prezzo, 3190 yen, neanche tanto, per quello Dolacca, per l'ufficio si, 3190 yen, di sicuro la taglia mia, ml, che vuol dire, questa bella cafonata, l'angolo GioGio, che non manca mai, ovviamente, non è cara, no, 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 anzi, guardate tutto l'angolo GioGio, sempre figo, ah, questa pure le magliette, bau, la maglietta di bau, purtroppo non ce la fanno vedere, sempre grandi chicche c'hanno qua, molte, molte chicche, non si, un modo mai legante, questo, secondo me a caverna gli piace questa, guardate quanti, tutto kingdom, questa è la zona manga, ovviamente, vedete, aspettate, siamo attenti qua, ah, eccolo, chainson man, inizia a uscire il merch di chainson man, inizia eh, inizia ad esserci chainson man, akira, akira, sempre figo a sto negozi, sempre fighissimo, siamo attenti, metto davanti, perché da qua passiamo a una zizza, in sto negozio non ci vuole niente, guardate, Sailor Moon, l'angolo Sailor Moon, bello, ecco appunto, stiamo attenti, già vedo zone un po' così, minecraft, per minuto minotauro di chioto, figo nome, i soldi finti, oh, un milione di yen, qua giusto, 138 yen per un soffitto, tipo carte per le note, AMONGUS, 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 mai giocato all'AMONGUS però, vediamo qua, ah, giungito, l'angolo giungito, AMONGUS, l'angolo giungito, le magliette di giungito, vedetevelo, Guarau Sersman, vedetevelo, merita tantissimo, chi mezzo sta perdendo terreno, rispetto a Jujutsu Kaisen, ve lo dico, lo avverto, che sta perdendo terreno, guardate qua tutte le cosette carucce, un negozio che c'ha tutto, questo è uno dei tanti negozi che hanno una quantità di stronzate, esagerate tutte le storie, benvenuto KORN ITALIA, il mitico KORN, BREAKING ME DOWN, BREAKING ME, BREAKING ME DOWN, I AM WATCHING YOUR EYES AND FOLLOW MY... non mi ricordo le parole di BREAKING ME, MAKE ME BED, guardate tutta roba di Marvel, DC, c'è un paio di Tom & Jerry, Ciao Angel of Merties, perché sono 20 radio diverse, perché c'è un inquinamento acustico imbarazzante in Giappone, siamo di nuovo in mezzo al cose random ragazzi, siamo stati con Dario qua, mazza i colori quanto sono staturi, bello, benvenuto Linco, vi ricordate siamo stati, ah belli questi, questi mezzi tridimensionali, oh che belli questi, guardate che ficata, il Savoia questo è di cose quello di, non è quello di cosa, di caproni, ah personaggi famosi, ma no nel senso non tantissimo, cioè quelli famosi anche in Giappone, più che altro, ma anche famosi solo in Giappone, sono conosciuti, quelli proprio in generale non tantissimo, figa sta cosa, ah che bella sta roba, figa questa nuova eh, hanno preso qualche misura per diminuire la plastica, di far pagare i sacchetti di plastica, questo è quello che hanno fatto, basta, Fort Mart, questo hanno fatto, tutto qua, tutto qua, oh che figata i robottoni, i robottoni robot, i treni robot che c'è tutta la serie, Star Wars, il Tamagotchi di R2-D2, tante stronzate, si ho cambiato cellulare, adesso c'è un nuovo Xiaomi, chi è che voleva Tokusatsu, ecco guarda, pure Megaloman, come lo chiamavano, Megaloman in Italia, guarda tutti gli Ultraman, chi è che voleva gli Ultraman, ciao Chris, tutti gli Ultraman, tutti i cattivi di Ultraman, tutti i Kaiju terribili, ancora chi mezzo, tiè tutti i Sentai, tutti i Sentai, tutti i Sentai, chi è che voleva i Sentai, tiè, guarda che roba, tutti i Super Sentai, dovrebbero smettere di plastificare le cose, sarebbe meglio, si, quante stronzate, mamma mia, ecco, bello questo, bello, bello, Jonathan, bella anche questa Rei, questa Aska, Tengen Top Gurren Lagan, mitico, Naraku, no, quello che non è Naraku, quello si è cosa del fratello di Inuyasha, quell'altro che è, di Kenshin, belle, belle, belle figure, belle, belle, giusto sotto i piedi può stare questa serie, guardate, Gundam, cazzutissimo questo, roba figa, Mario, chi era Mario Mario, guardate che belli, sempre bella roba, guardate, Rent a Girlfriend, Rent a Girlfriend, questi quadretti di Rent a Girlfriend, farvi vedere un po' di luci sfavillanti, Minecraft e Picard, quante stronzate abbiamo ripreso in quest'ora, quanto consumismo abbiamo ripreso e quanta roba di Jujutsu Kaisen, i Samurai Mack, a me piace molto quello normale base di questo qua, questo è un po' così, questo è molto buono invece, questo è meglio quello base, questo è molto buono invece, i Samurai Mack non son male. Che schifezza, eh? Che schifezza, eh? Guarda, che colori sto cellulare, oh! Guarda che qua, nella realtà non è così illuminato, è bellissimo, guarda la mia mano quanto è morbida, è bellissimo, è bellissimo, guarda che colori, prende le luci proprio bene bene, guarda che bello! Grazie di aver seguito, Davide Giappone è tutto, a Frappè, buona giornata!